salve a tutti amici di youtube rieccomi sul canale anche se probabilmente questa è l'ultima volta che ci vediamo mi sembrava doveroso fare questo video perché sono tanti anni ormai che sto su questa piattaforma o quantomeno stavo come leggete dal titolo che diciamo parla già da sé dice tutto devo accantonare abbandonare accantonare youtube diciamo che intanto mi scuso se negli ultimi mesi non ho caricato niente sono cambiate delle cose nella mia vita quindi ho dovuto eliminare qualcosa e ci è dato di mezzo anche youtube con questo non smetterò di giocare chiaramente cioè il software per me sarà sempre nel cuocere resterà sempre il mio sport quindi la domenica andrò a giocare però youtube mi toglie tanto tempo e sono stato costretto a delimitarlo con questo spero che magari un giorno il canale non lo chiudo nel senso non è che chiudo il canale magari un giorno riuscirò a riprendere più costantemente e ricominciare proprio seriamente ma adesso non ne sono in grado quindi sono costretto a lasciare mi sembrava giusto comunque avvertirvi dirvelo magari a qualcuno non fiega niente a qualcuno magari sì a qualcuno dispiacerà qualcuno no però ecco mi sembrava giusto che io facessi questo video perché penso che comunque un video del genere chi chi è su youtube prima o poi lo dovrà fare volevo ecco salutarvi ringraziarvi di tutto per tutti questi anni che mi siete stati vicino per i commenti per i pollici in su per tutte le richieste che mi avete fatto anche se a momenti era un po snervate però mi ha sempre fatto piacere rispondere alle alle vostre domande alle vostre opinioni insomma spero di riuscire a caricare sporadicamente qualche video di delle partite perché mi rimane abbastanza semplice anche magari giocare la domenica registrare con lavoro perché tanto ci sto giocando e poi magari riuscire a trovare i ritagli di tempo per diciamo editare il video quindi magari sporadicamente ecco vedete qualche video di partite ma per il resto non ci saranno più recensioni non ci saranno più vlog non ci saranno non ci saranno più prove di tiro non ci saranno più smontaggi non ci sarà più niente purtroppo devo devo lasciare con questo ragazzi io vi saluto e spero di riuscire presto a caricare un video però ecco non vi assicuro niente però innanzitutto volevo salutarvi e ringraziarvi soprattutto quindi ragazzi pollice in su e andiamo avanti sempre andate sempre avanti con quello che ritenete giusto che sia giusto per la vostra vita ciao ragazzi